Ciao, Carta Carbone. In questi giorni in cui siamo quasi tutti reclusi in casa vi leggo una poesia inedita tratta dalla sezione di un libro che chissà quando mai e se pubblicherò, dedicata proprio alle diverse reazioni che si hanno ai ritmi e alle pressioni del mondo tardo-capitalistico. E sappiamo che una di queste reazioni è proprio quella di chiudersi in casa, vedi i kikomori ed intorni. La poesia si chiama Pip Show dei Sociopatici. I genitori comprano le case perché i figli ci vivano reclusi, almeno non stanno sempre soltanto in una stanza. E i vicini osservano seccati, le tapparelle tutte serrate, l'esangue presenza d'estate di un gatto che esce in terrazza, neanche la posta, mai un lavoro, antisociali che ammorbano il quartiere, sventolando bandiere di sconfitta. La vita, capite, è altro da questo, da questa vacanza da tutto e da tutti. Ma senza alcun decoro i sociopatici lanciano ancora l'eterna minaccia del loro imbelle in mondo sconforto, muovendosi da star consumate le rare volte in cui escono, perché sanno di essere belli, sfilatisi dall'unica fede, sanno che tutta la luce del mondo si riflette su chi non la vede. Ciao!